Ciao ragazzi, benvenuti benvenuti sul mio canale, io sono Magnus, ritorniamo sempre qui con la nostra rubrica Magnus Love Me che avete supportato e che vi sta piacendo. Di cosa parliamo questa settimana? Io volevo parlare del fatto che è stata una settimana e che io odio soprattutto le settimane quelle brutte, quelle praticamente complicate, quelle dure, però poi alla fine ci si rende sempre conto che se ci riesce ad arrivare alla fine della settimana soddisfatti di quello che si è fatto si è più contenti. Cosa sono successe praticamente in questa settimana? Le cose più strane, le cose più assurde? Innanzitutto vi voglio dire che avrete sicuramente notato che ci sto dando molto più dentro, tra virgolette, sul canale visto che stiamo crescendo, siamo arrivati quasi a 20.000, c'è tanta roba che ci si può portare e in settimana penso di aver caricato anche quasi tutti i giorni circa 3 video al giorno per portarvi tante sere anche perché ci sono tantissimi giochi e tantissime sere che stanno uscendo. Certo è normale che avete notato che YouTube non è che ci aiuta tanto da questo punto di vista, non partono le feed, non parte niente, non funziona niente, se no facendo degli aggiornamenti, pare che quando fanno gli aggiornamenti le cose vanno ancora peggio, cioè fanno le cose per andare meglio invece poi alla fine le cose vanno peggio. Vabbè, lasciamo perdere, avete visto che vi spingo sempre a seguirmi sui social perché è anche lì che vi aggiorno su tutti i vari giochi che usciranno, su tutti i vari appuntamenti, quindi vi consiglio sempre di vedere in descrizione c'è sempre tutto, faccio uscire sempre il bannerino, quindi seguitemi. Come vi dicevo sto cercando di portare sempre tre giochi al giorno è normale che alcune serie subiscono naturalmente dei ritardi non voluti naturalmente da me anche perché vi dico sempre che non considerate solamente il fatto di registrare ma poi c'è anche il fatto dell'editing c'è tutto il fatto del montaggio, poi c'è tutto il fatto di bisogna renderizzare, c'è bisogno di una questione di tempo io ho soltanto un computer, quindi naturalmente se uno viene impegnato per registrare non è che posso poi compensare il tempo con altre cose. Su che cosa volevo aggiornare rapidamente e su che cosa naturalmente ci tengo a precisare che la serie Super Mario continuerà, state tranquilli perché era partita abbastanza lentamente, io vi dico la verità non pensavo che andasse bene con Claudia, invece pare che va bene, me l'avete me l'avete me la state chiedendo in tanti perché non l'ho portata per un po' di tempo all'inizio l'avevo un attimo interrotta e messa da parte perché erano usciti tanti i giochi ma poi alla fine mi sono reso conto che vi stava piacendo non tanto per le visuali, lo sapete benissimo che non guardo solo quelle perché ovviamente se guardassi solo quelle non porterei determinati giochi ma guardo anche tanti fattori, guardo anche pollice in su guardo soprattutto anche quanto commentate perché è normale che c'è tanta interazione vuol dire che il gioco vi sta piacendo il problema con lei è fondamentale che bisogna mettere insieme i miei impegni con i suoi impegni lei ha diversi altri impegni che vanno completamente al di fuori da youtube per cui è un po' più complicato, registriamo spesso la sera però lei si diverte, infatti su alcuni salvataggi andate anche avanti perché a lei piace tantissimo il gioco quindi a me fa piacere giocarlo con lei e quindi fa piacere anche a voi tra l'altro poi vi volevo rispondere anche per altre cose tutta una serie di cose qui che poi mi dimentico giochi lego, rara state tranquilli, i giochi lego comunque verranno sempre portati lo sapete benissimo che se guardassi soltanto le visual i giochi lego non li porterei ma visto naturalmente che mi piacciono, piacciono a me tantissimo piacciono naturalmente anche a voi ritorneranno ho fatto una piccola pausa per quale motivo? fondamentalmente perché sappiamo che a fine mese uscirà un nuovo gioco tra l'altro poi ne avevo acquistato un altro ma sapete benissimo che se mi seguirese social ho avuto problemi di copyright e quindi non l'ho potuto caricare vabbè non fa niente comunque state tranquilli perché il lego ve li porto sempre tra l'altro poi, altra cosa molto importante so che uscirà poi anche il gioco che lo sto aspettando da tanto e spero che non sia una frana Dragon Salva dei nuovi cavalieri perché ho visto qualche video non è che mi abbia tanto entusiasmato però mi piace la serie andrò a vedere il film scrivetemi sotto nei commenti se vuole andrete a vedere ma penso di sì perché anche qualcuno di voi me l'aveva già consigliato ma io non ho risposto perché mi piace tantissimo quindi era scontato comunque il gioco d'acquisto sicuramente è molto probabilmente penso che ci farò un video sicuramente e poi naturalmente per la serie lo sapete bellissimo che scegliamo sempre insieme che cosa vi volevo più dire? ok non mi viene più in mente niente anche delle cose che mi sono appuntate non ci sono più ho parlato a Raffica tantissima spero naturalmente non avevi fatto una testa così oggi sono in giornata di parlantina che vi dico naturalmente come passate a due video come passate a metto su un bel mi piace ci vediamo se nel prossimo video bye ciao ciao ciao